Musica Cresce a Gonnesa l'opposizione a parti eolici e fotovoltaici davanti a Nurane Serici. L'obiettivo è salvaguardare il sito e l'intero parco archeologico, individuando altri siti trudi di problemi. Il direttore generale di area ha convocato un incontro a Carbonia per il 20 dicembre. La decisione è arrivata dopo le nuove proteste di consiglieri ed assessori e di un comitato di cittadini che chiedono interventi sulla gestione del vasto patrimonio dell'ente in città. San Giovanni Suergio in festa per i 100 anni di Francesca Marras con Ziaci Citta salgono a sei centenari in paese, uno ogni mille abitanti. La partita Carbonia-Lanusei si giocherà in anticipo sabato 17 dicembre. Anticipata venerdì 23 dicembre, anche la successiva partita Ferrini-Carbonia, inizialmente prevista per venerdì 30 dicembre. Buon mercoledì 14 dicembre 2022 a tutti i telespettatori di Canale 40, ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Si moltiplicano nel Sulcis le richieste di autorizzazioni per l'installazione di parchi fotovoltaici ed eolici. I progetti di alcuni di questi sono previsti nel territorio del comune di Gonnesa, a ridosso dell'area archeologica di Serucci, intorno al Nuraghe. La scelta dei siti è contestata dai rappresentanti di diverse associazioni. Ieri pomeriggio Gianpaolo Cironi si è intervistato Giancarlo Ballisai, rappresentante dell'associazione Antiquas, del consigliere comunale di minoranza Antonello Casu e del rappresentante dell'associazione archeologica Ugo Ballisai, che hanno spiegato le motivazioni della loro opposizione. Vediamo insieme le interviste. Giancarlo Ballisai, quali sono le ragioni della vostra opposizione a questi progetti per impianti eolici e fotovoltaici qui nella zona di Serucci? La nostra opposizione nasce dal fatto che questa è un'area archeologica diffusa, collocata in modo circolare. Sono circa 12 nuraghi e anche villaggi nuragici. Sono collegati da strade che ora sono coperte, non si vedono ancora. È un'area paesaggistica protetta dai beni culturali, anche dal governo dei beni culturali italiano. Ed è anche un'area SIC, un'area di protezione speciale. Voi proponete un'alternativa? Noi proponiamo che vengano individuati dei luoghi adatti per poter installare il fotovoltaico. Siamo contrari a questo modo selvaggio di produrre questi progetti che provengono dal continente. Persone che non conoscono il luogo arrivano qui e si installano in qualsiasi posto. Innanzitutto non c'è una preclusione nei confronti delle fonti rinnovabili, eolico, fotovoltaico. Però è impensabile insediare in questo territorio impianti di questo genere. Ci sono parecchie zone, prendo ad esempio zone che parecchio tempo fa sono state interessate da attività mineraria che possono essere sicuramente più compatibili con questo tipo di attività. e poi tendo a rimarcare il fatto che comunque se si dovessero individuare delle aree dove poter impiantare questo tipo di produzione siano aree comunali che portino nel qual caso beneficio alle comunità direttamente interessate. Le cosiddette compensazioni. Esatto. Comunque, come già detto da Giancarlo, noi pensiamo che sarebbe un'ottima cosa pensare a un parco archeologico che si estenda da questa zona e vada in direzione del comune di Carbonia che interessa anche il comune vicino di Porto Scuso perché innanzitutto per tutela di quelli che sono i nostri valori, identità e storia e poi perché comunque in termini pratici questo produce economia. Noi facciamo fatica e non ci concedono delle aree archeologiche dove possiamo ripulire e farle conoscere alla popolazione mentre arrivano questi esterni mai visti, mai conosciuti, senza nessun potere che si installano, distruggono tutto e portano che cosa? Paleoliche che possono installare in qualsiasi altra parte oppure voltovoltaici. Ci sono delle zone enormi, abbandonate, le vadano a mettere lì e noi, la nostra guerra è questa. Signori comuni, signora regione, noi siamo il terzo settore, svegliatevi, battila a noi che ne diamo la possibilità alla popolazione di poterla utilizzare e poterla gestire. Due giorni fa la protesta di alcuni consiglieri ed assessori del comune di Carbonia, poi è scattata la protesta del comitato che da anni si batte sulle problematiche legate alla gestione del patrimonio area ed ha organizzato un presidio all'ingresso della sede di Via Angioi. Oggi il direttore generale di Area, l'ingegnere Cristian Filippo Riù, ha comunicato al sindaco di Carbonia Pietro Morittu la convocazione di un incontro per l'esame delle problematiche di edilizia residenziale pubblica da tenere martedì 20 dicembre presso i locali di Area in Carbonia con la partecipazione di tutti coloro che intendano confrontarsi sulle stesse tematiche. Stamane intanto al presidio ancora in corso davanti all'ingresso degli uffici Area di Carbonia Gianpaolo Cirronis ha intervistato Daniele Mele, consigliere comunale di minoranza. Sentiamo insieme. Daniele Mele, ci risiamo. Il problema degli alloggi aria è ancora risolto e voi siete qui in presidio ormai da alcuni giorni. Per rivendicare cosa? Allora Gianpaolo, per rivendicare cosa? Per rivendicare tutti quelli che sono i problemi che ormai sono diventati stanti, sono trentenali, case non consegnate, case non manutenzionate, case occupate abusivamente da personaggi che vivono a Brescia, a Roma, a Milano e non liberano le case e poi tutti i locali commerciali chiusi e consegnati alle possibili attività. Però devo dire che oggi è arrivata una bella notizia, è arrivata una bella notizia. Proprio cinque minuti fa il direttore della regione di aria ci ha confermato che lottare tutti i cittadini insieme serve. Abbiamo ottenuto un grande risultato. Il 20 di dicembre avremo l'incontro con il direttore della regione di Rio, di aria, qua, in questi locali, non a Cagliari, perché non siamo una succursale di Cagliari. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, incontreremo il direttore della regione di aria qua e gli porremo tutti i nostri punti, tutti i punti che i cittadini hanno chiesto. Verranno tutti i cittadini, in rappresentanza ci saranno i vari rappresentanti di ogni comune che cercheranno di farli salire, a far capire al direttore della regione di Rio quali sono i problemi. Qualche anno fa, un'altra manifestazione simile, allora il compianto indimenticabile Roberto Frongia si prese un impegno, arrivò un responsabile dell'ufficio, della sede, che poi però se ne è andato molto presto. Allora il compianto grande Roberto Frongia, due anni fa mi sembra, se non era adesso, non voglio dire anche più, due anni fa forse qualcosa in più, venne qua tra noi in manifestazione, eravamo due e cento quel periodo, prese prima di tutto due grandi impegni, uno consegnare le case della zona vicina a via Oglia, e quell'impegno fu subito rispettato, Roberto mantiene l'impegno in 24 ore. Il secondo impegno era di far arrivare un dirigente territoriale. purtroppo questo dirigente territoriale ancora una volta arrivò ma non era un dirigente territoriale del luogo perché serve un dirigente territoriale del luogo e ora di finirla di avere delle persone che arrivano da tutta la Sardegna arrivano qua in purgatorio, si fanno sei mesi, un anno quando hanno iniziato a capire le problematiche spariscono, se ne tornano a casa e noi siamo punti a capo e poi è stato inaugurato anche l'ufficio URP ma anche di quella non c'è traccia allora è stato inaugurato ma purtroppo hanno inaugurato un bellissimo ufficio spendendo delle risorse che se fossero state utilizzate per ristrutturare 5, 6, 10 appartamenti forse sarebbe stato meno, però quell'ufficio alla fine non può andare avanti perché manca materialmente il personale non c'è personale qua, perché manca il personale per tutto eppure c'è il patrimonio, Carboni ha un patrimonio immesso di proprietaria questa cosa va discussa perché Aria sta distruggendo il nostro patrimonio qui ci sono 2000 locali uso civile abitazione e 1000 locali uso commerciale e piano piano si stanno sgrettolando faccio un esempio, il palazzo Ceva dove prima c'era la CIS dove io lavoravo ipotizziamo se fosse di proprietà del comune e il comune riuscisse davvero a fare, solo da quel palazzo riesce a tirare fuori 15 appartamenti conosco i locali, quale sarebbe la ricaduta e soprattutto anche la ricaduta decorosa di questa città, perché si stanno tutti sgrettolando questi palazzi Emanuele Madei II è stato riconfermato segretario territoriale della Filcetem CGL si è conclusa ieri presso l'auditorium della Sotacarbo, presso la grande miniera di Serbariu a Carbonia la due giorni del secondo congresso territoriale della Filcetem CGL della Sardegna sud-occidentale nel corso del quale si è fatto un bilancio degli ultimi 4 anni di attività la situazione del polo industriale e il ruolo del sindacato nel mondo del lavoro oggi i temi affrontati, ne abbiamo parlato con il segretario di categoria Emanuele Madedu Emanuele Madedu, sono stati due giorni di congresso intenso il congresso della Filcetem che è la vista, tra l'altro riconfermato quale segretario territoriale della categoria dei chimici della CGL un bilancio di questi ultimi 4 anni piuttosto importante? Ma è stato un bilancio che ha visto diverse avvertenze importanti ma sono stati soprattutto 4 anni impegnativi non possiamo dimenticare elementi come la pandemia che ha profondamente cambiato la vita di tutti noi pensiamo a attività come lo smart working, prima inesistenti oppure alle attività anche delle aziende che si sono dovute davvero reinventare così poi quasi non bastasse subito dopo è arrivata la crisi energetica la cosiddetta tempesta perfetta che ha impattato in modo importante sia su tutte le famiglie, sui consumatori ma ancora di più sulle aziende energivore pensiamo alla Portovesme SRL, pensiamo alla ceramica mediterranea e su queste avvertenze noi ancora oggi siamo impegnati infatti nel congresso è stato uno dei temi centrali il tema dell'energia il tema dell'energia che ovviamente poi deve essere declinato su due questioni uno il caro energia che vede la Portovesme in forte difficoltà e anche con ipotesi di chiusura o comunque di stand by in attesa di cambiare attività verso le nuove batterie del futuro le batterie a litio così come impatta la questione dell'energia sul fatto che in Sardegna ancora oggi non c'è il gas aziende importanti proprio come Euroallumina vedono il futuro solo, lo vedono traguardato soltanto se appunto arriverà il metano Emanuele il 2022 si sta quasi per concludere per l'anno futuro che cosa si prevede anche dal punto di vista sindacale dal punto di vista dell'occupazione dei lavoratori c'è qualche spiraglio su queste tematiche che lei ha appena enunciato si intravede una soluzione? Ma noi crediamo che ci possano essere sulle soluzioni sulla questione del caro energia credo per esempio per aziende importanti come la Portovesme si possono mutuare accordi bilaterali che già esistono in questo territorio questo ci permetterebbe di fare la giusta transizione aziendale perché come è noto la linea Piombo ha una vitalità di 2-3 anni ma sono 2-3 anni importanti perché un conto è fare il cambio di produzione con l'azienda in attività un conto con l'azienda ferma perché sappiamo sempre che la burocrazia è impegnativa crediamo e siamo fiduciosi che la sentenza poi del Consiglio di Stato del 23 di febbraio sull'FSRU del porto di Portovesme possa anche dare una svolta per Ereo Allumina ma complessivamente credo che noi poi dobbiamo avere anche una visione più complessiva certamente affrontare le emergenze che sono la priorità ma credo, questo è stato l'altro elemento che è emerso nel congresso noi dobbiamo avere una visione strategica di questo territorio a 10-20 anni se noi non ci diamo una visione strategica di lungo periodo e ci fossilizziamo solo sulle avvertenze che comunque sono importanti dovremmo sempre combattere oggi per salvare una fabbrica domani per salvare una scuola dopo domani posti letto dobbiamo ricostruire in una visione più complessiva quindi in una visione confederale a un piano strategico di prospettiva se non facciamo questo noi siamo destinati a soccombre proprio nel lungo periodo Ed ora voltiamo pagina sono 1.001 i nuovi positivi al virus in Sardegna su 4.426 tamponi eseguiti 90 diagnosticati da molecolare e 90 da antigenico i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3-1 mentre quelli ricoverati in area medica sono 98-5 sono 6.695 le persone in isolamento domiciliare meno 198 si registra il decesso di una donna di 84 anni residente nella provincia del Sud Sardegna Ad Alghero proseguono le attività del Comune per ridurre l'uso della plastica e per il suo recupero vediamo insieme Vanno avanti le attività dell'amministrazione comunale per ridurre l'uso della plastica e per il suo recupero per ora il Comune di Alghero ha vinto due distinti bandi promossi dalla Regione Sardegna e dal Ministero dell'Ambiente quello della Regione rientra nell'ambito dei fondi europei per gli affari marittimi e per la pesca e si basa su un progetto per il quale l'amministrazione comunale sarà fornita di pesci mangiaplastica da posizionare nell'area portuale dove saranno utili innanzitutto ai pescatori per riversarvi tutta la plastica ripescata in mare ma anche come strumento di educazione ambientale per i bambini delle scuole primarie il secondo bando invece è quello del Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica e riguarda il finanziamento ai comuni per l'acquisto di appositi ecocompattatori mangiaplastica in cui i cittadini potranno riversare le bottiglie di plastica usate ottenendo delle premialità di diversa natura il Comune di Alghero è stato ammesso al finanziamento classificandosi al 36esimo posto su oltre 600 comuni partecipanti da tutta Italia e riceverà il massimo dell'importo previsto risorse che consentiranno di acquistare due grossi macchinari mangiaplastica del valore di circa 30.000 euro il pesce mangiaplastica è un'idea che avevamo in testa già da qualche tempo e la realizziamo senza alcuna spesa ha detto l'assessore comunale dell'ambiente Andrea Montis le due macchinette mangiaplastica saranno le prime di una lunga serie e fungeranno da test rispetto ad un discorso più ampio che stiamo provando a portare avanti con il Coripet consorzio per il riciclo del PET per averne diverse distribuite su tutto il territorio comunale così come abbiamo di recente fatto con le case dell'olio ha concluso il delegato dell'amministrazione Conoci che ha ringraziato anche il personale del settore ambiente per l'impegno dimostrato e per i risultati raggiunti bentornati in studio da oggi sino a martedì 20 dicembre la scuola primaria di Serbariu resterà chiusa per urgenti e necessari interventi di disinfestazione e sanificazione di aule locali lo ha reso noto il comune di Carbonia con un'apposita ordinanza adottata ieri consapevoli del disagio arrecato alle famiglie ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Antonietta Melas riteniamo che sia prioritario tutelare la salute dei bambini delle bambine e degli operatori scolastici e garantire lo svolgimento dell'attività didattica in piena sicurezza il ritorno sui banchi è previsto per mercoledì 21 dicembre per venerdì 16 dalle 8 alle 13 e 30 operai e mezzi di Abanoa entreranno in azione nell'impianto di Capodacquas per alcuni lavori di manutenzione l'intervento interesserà le località di Sperdas Medauligi Medaudesogus Iserafinis e Medauesu dove secondo i tempi stabiliti dai lavori verrà sospesa l'erogazione dell'acqua Abanoa assicura che estino al ripristino dell'erogazione saranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi agli abitanti alimentati dall'impianto idrico ed ora passiamo alla cronaca i vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per spegnere un incendio che ha interessato un'utilitaria parcheggiata in via Roma a Terralba il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alle strutture vicine nessuna persona risulta coinvolta le cause del sinistro in fase di accertamento sul posto sono intervenuti anche i carabinieri due squadre dei vigili del fuoco di Sassari e Macomera sono intervenute per un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 131 all'altezza del chilometro 157 due le auto coinvolte dopo averle messe in sicurezza i vigili del fuoco hanno lavorato in supporto del personale del 118 estraendo una donna da una delle auto e consegnando le cure del personale sanitario le altre persone coinvolte sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale ancora la cronaca i vigili del fuoco di Ozzieri sono intervenuti in località Paule a Siligo per l'incendio di un fienile la squadra ha circoscritto le fiamme che hanno minacciato all'esterno circa 5000 balle di fieno ed un capannone contenente all'interno altre 500 balle ed altro materiale tra cui alcune celle frigo non si segnalano persone coinvolte voltiamo pagina grande festa lunedì pomeriggio a San Giovanni su Ergiu la pattuglia dei centenari si allarga con il traguardo del secolo di vita superato anche da Francesca Ciccita Marras ora gli over 100 sono 6 1 ogni 1000 abitanti un piccolo record per il centro del basso sulcis ce ne parla Maurizio Rocci grande festa lunedì pomeriggio a San Giovanni su Ergiu dopo Annetta Pisano che vive a poche centinaia di metri anche Francesca Marras per tutti Zia Cicita ha festeggiato il traguardo di cento anni di vita circondato dall'affetto dei familiari dei vicini di via Vittoria Emanuele e degli amici che non sono voluti mancare all'appuntamento un appuntamento a cui non sono certo mancati neppure il Virausai il sindaco del centro del basso sulcis che ha consegnato all'anziana donna una targa commemorativa a nome dell'amministrazione comunale dell'intera comunità e Don Tonino Bellu che dopo aver consegnato a Zia Cicita un quadro donato dai fedeli della parrocchia ha celebrato per lei e tanti presenti una solenne funzione religiosa nata a Masainas il 12 dicembre 1922 Zia Cicita è sempre stata una donna di grande fede e una grande lavoratrice sposata la prima volta con Salvatore Cadoni originario di Rio Murtas dopo soli 13 mesi e con un bambino in grembo rimase vedova successivamente si sposò con Giuseppe Caddeo di San Giovanni Suergi dal quale ebbe altri tre figli sempre presente e affettuosa con tutti i suoi concittadini e considerata la nonina del rione con Zia Cicita e Zia Annetta entrambi residenti in via Vittoria Emanuele si appresta a chiudersi un 2022 dal record per i centenari di San Giovanni Suergio il centro del Basso Sulcis che secondo i dati ISLAT di inizio anno conta 5.673 residenti infatti può contare su altri 4 centenari una patuglia che guidata dall'ultracentenario Antioca Serafini dall'alto dei suoi 102 anni può annoverare anche Giovanna Collu Fortunato Sanna e Rosa Viotti in pratica un centenario ogni mili abitanti anzi per la precisione uno ogni 950 un tesoro da preservare e custodire come giustamente ha fatto notare il sindaco Elvira Usai Presentato ieri a Carbonia il miracolo di Natale la grande raccolta di beni alimentari e di prima necessità organizzata da 26 anni dalla Caritas che per la prima volta sbarca nella città mineraria Maurizio Rocci Da 26 anni associazioni e volontari si impegnano per regalare un sorriso e un sostegno concreto a persone e famiglie in difficoltà ancora più in crisi a causa della pandemia e per questo mettendosi in gioco partendo dall'idea che gli uni siano indispensabili agli altri con questo spirito e per la prima volta sbarca a Carbonia miracolo di Natale la grande raccolta di genere alimentari a lunga conservazione e di prodotti per la cura della persona e della casa che andrà in scena venerdì 16 dicembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 presso la palestra della scuola primaria Grazie a Della di Via Roma durante l'evento sarà aperta anche la mostra dedicata a Santa Madre Teresa di Calcutta l'evento realizzato grazie alla collaborazione tra gli assessorati comunali alla pubblica istruzione e alle politiche sociali di Carbonia le caritas parrocchiali cittadine le scuole e le associazioni è stato presentato ieri in occasione di una conferenza stampa tra i presenti oltre agli amministratori locali anche il cardinale amministratore apostolico della diocese di Iglesia San Rigomiglio e Gennaro Longobardi conduttore televisivo che circa 26 anni fa diede avvio insieme alla caritas Cagliaritana al progetto Il Miracolo di Natale Allora amici eccoci qua siamo in questa bellissima piazza guardate che spettacolo che meraviglia qui siamo a Carbonia e sono qui non per caso ma sono qui perché ci sarà il primo Miracolo di Natale di questa splendida cittadina e devo dirvi che mi trovo in un posto incantevole una piazza veramente ben realizzata ma soprattutto con queste luci che danno l'idea del Natale ma cos'è il Natale per Carbonia quest'anno oltre queste bellissime luci che ci saranno beh ci sarà il Miracolo di Natale che è una raccolta di generi alimentari faranno parte della grande famiglia del Miracolo di Natale che giunge alla ventisesima edizione per quanto riguarda noi di Cagliari insieme ad altri ventuno comuni della Sardegna quindi dal nord dal centro al sud della Sardegna ci sarà il Miracolo di Natale e io sono qui perché sono stato invitato e sono molto contento di aver ricevuto questo invito mancano pochissimi giorni al Miracolo di Natale dei ventuno comuni della Sardegna ma in questo caso mancano pochissimi giorni per il Miracolo di Natale di Carbonia quindi mi raccomando portate 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 e cercate di dare voce a chi l'ha perduta nella miseria nella povertà e nella disgrazia state vicini alle famiglie perché le famiglie hanno bisogno di noi il Miracolo di Natale come ho sempre detto è di tutti e quando noi partecipiamo al Miracolo di Natale vedete che io dico sempre noi partecipiamo perché il Miracolo di Natale non è un singolo individuo è la collettività la collettività che si muove per aiutare i più bisognosi non ho dubbi Carbonia farà un grandissimo primo Miracolo di Natale e quindi per il 16 di dicembre mi raccomando portate 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 viva viva il primo Miracolo di Natale di Carbonia apriamo con gli eventi la terza parte del nostro telegiornale proseguono a Carbonia gli appuntamenti natalizi con gli eventi inseriti nel cartellone messo a punto dall'amministrazione comunale ieri Babbo Natale con i suoi Elfi e le mascotte di Paperino e Paperina hanno allietato la serata di tanti bambini in piazza Primo Maggio dove per l'occasione è stato allestito l'albero della pace con animazione castagne e doni per i più piccoli abbiamo intervistato il presidente del comitato di quartiere Carbonia Nord promotore dell'evento Luciano Pisano vediamo insieme l'intervista Luciano Pisano presidente del comitato di quartiere Carbonia Nord oggi iniziativa in piazza Primo Maggio iniziativa grazie alla quale anche le periferie di Carbonia non solo il centro si stanno ripopolando assolutamente è un'iniziativa voluta dai cittadini del quartiere volta in primo luogo alla socializzazione a far rivivere quello che è il quartiere a far rivivere quelle che sono le attività di una volta di socializzazione di reciprocità e di valorizzazione del bene comune l'iniziativa di oggi come tema alla pace infatti l'albero è praticamente colorato con i colori della pace ed è un piccolo simbolo che il comitato di quartiere vuole lanciare al comune alla Sardegna all'Italia a tutto il mondo ringrazio l'amministrazione comunale la Proloco il centro commerciale naturale per l'organizzazione e per l'ottima riuscita dell'evento grazie ritorna il concorso vetrine balconi e facciate in festa a Natale è organizzato dall'assessorato delle attività produttive del comune di Iglesias in collaborazione con il comitato quartiere Castello anche quest'anno il concorso è diviso in due sezioni una dedicata ai titolari delle attività produttive con una vetrina che si affaccia sulla strada ed una pensata per proprietari delle abitazioni per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo di iscrizione disponibile nel sito del comune di Iglesias specificando per quale sezione si intende concorrere ed inviare il modulo con tre fotografie del proprio addobbo all'indirizzo mail concorso natalizio chiocciolacomune.iglesias.k.it fino al 23 dicembre le vetrine i balconi e le facciate dovranno rimanere addobbati fino al termine del concorso il 6 gennaio 2023 ed ora chiudiamo con lo sport si giocherà sabato 17 ottobre allo stadio comunale Carlo Zoboli la partita Carboni all'Anusei valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza regionale domenica 18 dicembre la città mineraria festeggerà l'84esimo anno dalla sua inaugurazione verrà anticipata anche la partita che vedrà impegnata la squadra di Diego Mingioni per la seconda giornata sul campo della ferrini inizialmente in programma venerdì 30 si giocherà venerdì 23 dicembre la decisione è stata assunta per consentire ai calciatori di trascorrere qualche giorno in più in famiglia anche oltre Tirreno o in qualche caso all'estero ed è tutto per questa prima parte del nostro telegiornale odierno io vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in corso il nostro telegiornale in lingua sarda grazie per essere stati con noi e per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento e un buon pomeriggio